Eee, urca, benvenuti a tutti ragazzi, con queste cuffie super bislaccate E andiamo a completare la missione di configurare l'applico di dispositivo In questo caso, io ancora non la so, ma voi avete già letto il titolo Dunque ragazzi, andiamo a fare proprio questa missione qua Esattamente qua ragazzi, troveremo l'applico bislorco Dunque, zacchete Eh, oi la madonna, oh, ok Vediamo un po' cosa dobbiamo fare, distruggi oggetti ai vecchi avvaposti Meno male che siamo interrati qua ragazzi Dieci le dobbiamo fare Eh, allora tua mamma, vabbè Andiamo lì ragazzi e Niente, basta, andiamo lì Eee, eccoci qui ragazzi Dunque, semplicemente andiamo esattamente in questa posizione esatta Ovviamente decidete voi, ovviamente meglio qua Uno di queste tre, siccome atterrate qua praticamente Se riuscite ad atterrare più vicino ai Jones, così almeno siete già lì Semplicemente ragazzi, cosa dobbiamo fare? Andare a distruggere ai vecchi avvaposti dell'OI Oggetti ragazzi, dunque Per esempio, uno Due Tre Quattro, cinque Qua c'è il cosiddetto Tu sei, sette Guarda, è già finito ragazzi Fatto Vedete? L'eternità Perfetto Usa uno sprite della pace su strutture vecchie Ok Dunque Eccolo qua Uno Vediamo se ce lo fa fare di nuovo Ah sì, perfetto Lo strutture Perfetto ragazzi Let's lap Lappato ragazzi Ora Ancora la parte uno Stavolta però Sulla parte sinistra della parte uno Della mappa, volevo dire Dunque ragazzi Ci vediamo direttamente tra pochissimo con l'ultima parte uno E poi vabbè Tra due ore gli altri carichi Dunque Tra poco Finiamo la parte uno E poi ci sarà la parte due Subito appena sbloccata la parte uno Ragazzi Un bacio regadissimo Un bacio regadissimo